allora non vi spaventate non è buio è semplicemente tutto scuro perché sto al non è notte diciamo però allora questi sono questi qui che vedete qua davanti che vi faccio uno zoom magari uno zoom non ce la possiamo fare ce la possiamo fare sono tutti i video di smite che ho finito di registrare tutti i tutorial finalmente quindi devo solo montare tra un po' ne esce uno tra un altro po' ne uscirà un altro eccetera eccetera devo solo montarle dovrebbero finire settimana prossima giusto in tempo per l'ultimo personaggio di uscire vi voglio ricordare che c'è ancora in ballo la scelta della serie invernale perché ancora se gli interessa cosa così per il momento abbiamo due voti per Okami uno per The Last of Us il primo The Last of Us vi ricordo le scelte sono Detroit Become Human Okami HD per PlayStation 4 The Last of Us The Last of Us The Last of Us PlayStation 4 di donna sono due voti per Okami uno per The Last of Us poi io non voterò perché sabato io sceglierò soltanto la secondaria che andrà insieme a quell'altra quindi chi non ha votato può anche votare qua sotto magari se si scorda chi ha già votato lo so perché ho iscritti in nome quindi sui commenti iscritti quindi beh datemi sapere ce la vedete ancora fino a sabato sera ecco poi del lunedì si comincia qui ha già votato qui ha già votato qui ha già votato